Dopo la riapertura degli istituti superiori a Teramo si torna a lezione anche in 21 scuole comunali. Il problema resta solo per le elementari, noelucidi e risorgimento, che necessitano lavori di adeguamento antisismico e per questa ragione gli oltre 600 alunni potrebbero essere spostati momentaneamente nella struttura dello stadio di Piano Daccio. Entrando nelle scuole cittadine si respira oggi un'aria di tranquillità e sicurezza, anche al convitto delfico, tra gli edifici scolastici più attenzionati dopo gli ultimi terremoti, gli oltre 100 convittori sono tornati a vivere e dormire comodamente nelle proprie stanze. Sono tornato l'altro giorno in convitto, ho trovato una situazione veramente ottima, veramente perfetta, comunque la struttura non ha presentato danni e così è stato anche per il terremoto di ottobre e il terremoto di agosto. Io ero qui anche durante gli altri due eventi importanti sismici e devo dire comunque la struttura ha retto veramente bene nel migliore dei modi. Non ci sono danni e la situazione è sempre sotto controllo da sei mesi. Ci sono esperti che vengono comunque periodicamente a controllare la struttura e la considerano sempre agibile. Anche al liceo scientifico delfico, stesso stabile del convitto, oggi le presenze hanno sfiorato il 91% degli studenti che parlano di allarmismo ingiustificato. C'è stata troppa discussione su questa struttura e tutto un allarmismo che in realtà non si doveva creare, visto che da sei mesi a questa parte c'è un'equipe di studiosi, di ingegneri e di esperti che lavorano, non solo con esami visivi ma con carotaggi ed esami laser, quindi hanno rilevato che la struttura è agibile, non ci sono problemi. La tua famiglia che cosa dice? La mia famiglia è tranquilla visto che è venuta qui e ha parlato anche, si è trovata con un ingegnere, quindi a casa sono abbastanza tranquilli visto che i documenti ci sono, quindi non vedo il motivo di tutta questa agitazione. Intanto l'ufficio scolastico provinciale di Teramo lancia l'allarme e iscrizioni per il prossimo anno in tutte le scuole teramane e proroga di 15 giorni la data di scadenza per presentare la domanda. A Teramo le scuole oggi funzionanti sono state controllate e dichiarate sicure, perché dubitarne? E se poi anche il busto marmoreo di Melchiorre Delfico è rimasto perfettamente integro al suo posto, ma perché avere paura?